Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. In questo video analizzeremo un filato con delle sfumature davvero molto molto esclusive, davvero particolari. Nel momento in cui indosserete la vostra creazione sembra quasi che questi colori, che queste sfumature pizzichino in un certo senso proprio la vostra creazione, conferendogli un tono molto delicato e avvolgente. Analizziamo nel dettaglio l'harper. Analizziamo allora nel dettaglio questo harper. Allora si presenta così in gomitoli da 100 grammi per una lunghezza di circa 350 metri, per il quale, vediamolo adesso un po' nel dettaglio, consigliamo l'utilizzo dei ferri 4-5 oppure dell'uncinetto 3-4,5. Eccolo qui. È un gomitolo composto per il 30% da lana e 70% acrilico, davvero molto morbido e con delle sfumature, credetemi, uniche. Ma prima di analizzarle e soprattutto vedere i nostri famosi telini, vediamo quelle che sono le indicazioni per il lavaggio e il post lavaggio. Sicuramente consigliamo proprio per la presenza della lana il lavaggio a mano, quindi con una temperatura tiepida. Sconsigliamo l'asciugatrice, ma consigliamo invece di riporlo in una posizione piana lontana da fonti di calore eccessive. È possibile stirarlo ad una temperatura non superiore ai 110 gradi, sempre ovviamente ponendo un panno protettivo nella parte superiore. Non è possibile candeggiarlo, ma è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezione fatta il tetra cloretilene. Ma adesso veniamo ai colori e alle sue fantastiche sfumature. Ebbene, la variante che abbiamo visto finora è questa, che è la variante tempesta, in cui vediamo, proprio qui analizzato nel dettaglio sul nostro telino, i colori del lavio, del blu, del verde acqua. Come potete vedere questi colori poi si ripetono, non sono delle sfumature molto nette, ma è un leggero degradé che poi, insomma, ecco, si ripete lungo tutto il corso della creazione. Sfumature che ovviamente, insomma, varieranno nell'altezza in base alla creazione che andrete a fare. Ma questa che vediamo qui adesso è la variante tempesta. Questa che vediamo qui invece è una variante che, insomma, è ben deducibile dal colore predominante, vale a dire il rosso. Infatti questo è l'arpper passione, dove vediamo, appunto, sviluppato al meglio proprio sul nostro telino, il rosso, l'aragosta, anche un leggero cipria, un rosa, intervallati poi da queste note molto molto chiare, quasi tendente al bianco, che risaltano bene sicuramente il tutto. Qui invece vediamo l'arpper elegante, messo in risalto dal colore che rappresenta al meglio l'eleganza proprio per eccellenza, vale a dire il nero. Messo in risalto sicuramente dalle varie sfumature, quali il grigio che andiamo, che vediamo da un grigio antracite ad un grigio un po' più chiaro e anche qui ci sono queste venature bianche che, insomma, risaltano ancora di più l'eleganza appunto di questo arpper. Qui invece abbiamo l'arpper foresta, quindi una bella esplosione di verde in tutte le sue sfumature, dal verde foresta per l'appunto a un verde prato, anche qui con queste venature bianche che risaltano al meglio tutti i verdi presenti proprio nell'arpper foresta. E in questo arpper invece i colori che predominano sono sicuramente i colori molto più delicati e infatti questo è l'arpper per l'appunto delicato, in cui predominano i colori pastello, vediamo da un bel lavanda, il glicine, il verde acqua, questo panna presente qui, quindi sempre la variante chiara che poi mette risalto insomma diciamo un po' tutte le colorazioni presenti proprio in questo arpper delicato. E concludiamo infine con l'arpper romantico, in cui i colori che predominano sono sicuramente il cipria, il rosa antico, il rosa e sempre questa venatura bianca che possiamo definire più che altro tendente al panna che risalta proprio la delicatezza di questo arpper romantico. I colori che abbiamo visto di quest'arpper che sono sicuramente insomma una delle note più belle di questo filato come avete visto sono davvero molto belli, si ripetono quindi un susseguirsi di colori che però poi vi permetteranno di garantire quindi una certa continuità proprio alla vostra creazione, si fondono insieme un meraviglioso degrade, dobbiamo dirlo. Poi oltretutto ci sono delle sfumature che possono senz'altro accontentare anche i gusti un po' più maschili quali potrebbero essere magari il foresta, il tempesta o l'elegante, ma così come i toni invece un po' più delicati come potrebbe essere appunto proprio l'arpper delicato con quei toni pastello sono certa che soprattutto per le più giovani saranno sicuramente il giusto mix di colori da poter indossare durante tutto l'inverno. E parliamo invece della composizione 30% lana 70% acrilico quindi ciò cosa vuol dire? Che la vostra creazione avrà la morbidezza giusta dovuta proprio appunto alla presenza della lana ma soprattutto anche il sostegno e la praticità che appunto porta proprio l'acrilico. Parliamo di un 100% made in Italy, infatti l'arpper viene ideato, creato e elaborato proprio in Italia cosa che non è mai scontata soprattutto al prezzo con il quale viene presentato. Parliamo comunque di sfumature di colori che abbiamo detto possono accontentare chiunque e che poi varieranno in base alla creazione che andrete a fare perché sì le creazioni che si possono fare con questo filato sono davvero tante, dagli accessori quindi da un bel cappello o una sciarpa oppure qualche capo di maglieria esterna come potrebbe essere un poncho o un cardigan o una stola insomma davvero no, perché no anche un bel maglioncino da poter insomma abbinare e da poter indossare per scaldarci durante questo rigido inverno. Un filato davvero insomma in esclusiva per Tessiland e questo non va mai dato per scontato. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!